122. Che cos'è la levitazione? Commento. La levitazione è il sollevarsi spontaneo in aria di un oggetto o di una persona in opposizione alla legge di gravitazione. È un fenomeno di psico-cinesi. Alcuni strumenti nel corso delle sedute producono con relativa frequenza fenomeni di levitazione. Tavoli che si alzano dal suolo, oggetti che cambiano posto da soli e altro ancora. Spesso si nota la levitazione dello stesso strumento. Il fenomeno comprende gli spostamenti di oggetti nei casi di poltergeist, i movimenti del tavolo e tutti gli altri fenomeni fisici prodotti da strumenti, la registrazione di voci paranormali, i piegamenti dei metalli e molto probabilmente l'azione dei guaritori. Come può testimoniare chi scrive, la levitazione ha interessato il pittore della scuola romana e il regista Demofilo Fidani, che al termine delle sedute levitava sino al soffitto sulla poltrona in cui era stato in trance. I fenomeni psico-cinetici sono molto vari e hanno origine molto antiche. Nel secolo scorso importanti fenomeni cinetici sono stati ottenuti con soggetti come Uri Geller e Matthew Manning, con la polacca Stanislava Tomczyk e la russa Nina Kulagina.